Va lui con il lancio, va corto da Bonera perché c'è Dennis che lo disturba. Bonera morbido verso Ibra che sovrasta tutti. Per Cassano, palla dentro, ancora per Ibra, è solo Ibra in aria, si ferma, Ibra! Ibra vince! 4-4! Che gol! Ancora l'assist di Cassano! Questa partita non finisce mai, mai! È la più bella dell'anno e siamo solo a 9 gennaio. Che partita meravigliosa, che fotografia, che spot per il calcio, che qualità questo giocatore. Guardate come va in alto, come deposita su Ibra di Cassano, come va a recuperare palla, come smista! Un avversario da una parte e il portiere dall'altra e deposita docilmente, tranquillamente, senza problemi in rete per Ibra 4-4. Il Milan si salva ma manca ancora un minuto e dieci alla fine di questa partita. C'è Antonini che recupera tutti i detti.